Erano le 10 di questa mattina quando i cieli sopra Fano si sono illuminati d'improvviso per un bolide infuocato che ha tagliato il cielo da est a ovest come una lama di rasoio che poi è esploso in aria e alcuni suoi frammenti sono finiti in mare davanti alle coste Fanesi. E ho visto così, sfruttando il cielo, e ho visto stare a fare, il celeste, l'azzurro non ho visto poco perché anche il cielo è azzurro, ma ho visto una lunga coda a lingua rossa, sta fiamma, e poi da rossa è diventata sempre più chiara, è diventata bianca e ho detto oh ma questa non si è spegnato in me, e invece è andata a finire in acqua che ancora era accesa. Quindi si è spenta in acqua? Sì sì, è andata a finire in acqua accesa. Ma era grossa? Ah no, madonna, era grossa, era una bella scia rossa di fuoco, quella che ho visto io, 50-100 metri di scia, era grossa. Dove è caduta, qui a largo? Qui a mezzo miglio, tre quarti di miglia, qui vicino, non è che è tanto lontano, però questa è grossa, poi di notte, di giorno non si vedono, ma è andata in acqua che era già accesa, non è che si è spenta nell'atmosfera. Sì io aspettavo, però non si vede perché il mare è già mosso e si confonde con il tuffo che ha fatto, ma quella era grossa. Migliaia gli avvistamenti oculari da diverse parti d'Italia, il fenomeno è stato registrato dal Veneto sino alle basse Marche, con migliaia di testimonianze. Ma la telecamera di bordo di un furgoncino ha ripreso il preciso istante in cui la palla luminosa è esplosa, lasciando dietro di sé una lunga scia bianca, frutto dei gas causati dalla sua distruzione a contatto con l'atmosfera. Anche dalla Croazia, avvistamenti e anche dalla Lombardia. La capitaneria di Porto ha mandato una motoveretta sul posto per eseguire dei rilievi dopo una segnalazione arrivata al centralino da Marotta, ipotizzando che potesse trattarsi anche di un razzo di segnalazione. Sostanzialmente poi sono state fatte delle verifiche, c'erano anche delle unità navali in mare e non ci sono registrati fortunatamente danni né annatanti né chiaramente a persone. Al momento non ci sono posizioni ufficiali a questo riguardo, ma l'osservatorio astronomico di Trieste ipotizza che possa trattarsi appunto di una meteora. Questi frammenti solidi di universo arrivano sulla Terra a causa della loro orbita e raggiungono velocità che arrivano anche a 100.000 km orari e si sorriscaldano fino a evaporare e originare l'esplosione ben visibile appunto nel video pubblicato da FanoTV che ha ben presto fatto il Giro d'Italia.